musica eccoci qua ragazzi siamo ancora su dead space prego esatto e illuminate un po' dobbiamo prendere l'ascensore dire la verità l'avevi gufato il mostro nell'ascensore è stato dato troppo e poi non si capisci dove diventate aia che cazzo è sei com'è siamo precipitati con l'ascensore sei com'è no non lo so com'è va bene non sono mai precipitato in un ascensore cargo andiamo al cargo buongiorno è arrivato il treno è arrivato? se siete a corto di munizioni ricordatevi del modulo cinetico una cassa ci sei trovato? non lo so c'è sto qua si sullo schermo mio ah attenzione puoi usare il modulo cinetico per lanciare le lame dei cadavri eh guarda vediamo un po' in tre ore uso questo trucco e affunzione perchè sto musicino mette ansia visto rilanciagli le lame che sento ansimare il busto quasi ah sta per morire eh ok no ci insegnava che possiamo rilanciare le cazzo di lame ok allora andiamo di qua notare che nonostante manda avanti a te le sparate è sparato ok direi che è morto stiamo nella merda perchè? non lo so non ci sono mai arrivato aspetta un attimo che faccio una cosa molto divertente vai robottino vai raccogli qualcosa cos'è? ah robottino allora qua c'è una scala e la sotto c'è brutta gente ah quello lì l'ho spedito io qua sotto prima con il puzzle game l'ho spedito io giù qualcosa quello lì è quello immortale vero? non so se è immortale o no io so che ce n'era uno che era immortale però vai avanti di lui perchè devo sempre andare avanti io? perchè mica che immano? va bene scusa però io voglio cambiare tuta mi fa schifo sta roba ciao amico ma ma si è staccato un braccio mi sarei staccato l'altro si sta rigenerando le gambe le gambe tu mi farai a liberarti vedrò ho di capire il 3 4 siamo prontati è morto? no come no? come no? deve toccandare oh che cazzo che cazzo c'è altra gente qua sai c'è altra gente qua sai c'è altra gente qua sai mi sa che quel tipo non ha intenzione di morire eh? che dici? io dico che è tempo di corno questa volta andro a manchi dai ti copro le squadre vai sali 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 tanto è ancora laggiù che si sta rigenerando eh dai sali andiamocene che cazzo? questo è cheating eh sappilo però cazzo cazzo aperti arriva andiamo terminale è un cazzo terminale questo ci arriva anche da qui cazzo andiamo via 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 WTF? WTF? ah si muove ancora ok via delle palle mi ha bloccato non posso muovermi mi ha bloccato non posso è bloccato qui si mi ha bloccato eh mi sono fottuto prova da tirare la sardina eh devi tirargli l'attenzione in modo che possa passare tronzo? dato joke no ok dato joke apri la porta si muove ancora su un pezzo di me mo usci tutto oh cazzo mi sa per inculare via 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 ho chiamato il coso ehm è sempre lui merda ma che cazzo è da un punto questo? sta arrivando la navetta merda cosa vuol dire? oh cazzo è stato un pezzo di me mi ha rotto proprio il cazzo oh cazzo è stato il cron un cazzo se pregherete pure ho finito la stati non posso più fare il trucchetto è arrivato l'ascensore l'ascensore è buono il coso, sali non mi importa dove vai, basta che ti muovi il cazzo di coso io come odio questi mostri come si ricarica la stati? ok, sono arrivato al trasporto sembra che si fermi alla stazione centrale e a Puppa la navetta si trova alla stazione di Puppa e la stazione centrale? Z ah no si è vero sorry NP grazie se ci vado ti faccio sapere oh dio ma quanto credi stiamo comunque? non lo so in arrivo a torre di comando ci stiamo stiamo procedendo con la nostra no no ancora la guarda cosa c'è si l'indovinello di merda indovinello il tuo compagno ritardato? scoppiamolo subito cazzo io lo chiamo così ormai sta roba ah tocca anche passare si perché giustamente adesso è complicato perché tocca spostarsi così che poi lo prende in ritardo eh vai quello sopra sopra dettagli ok il tuo compagno non è ancora abbastanza ritardato è realmente leso da questo gioco aspetta mi riusciamo agli armi? si sta raccogliendo tutto quello che c'è poi intorno cosa c'è? robo oggettini Mahad l'annuncio di Mahad stoppiamo per il momento perché onestamente mi sono caccati in mano guarda no se vuoi stoppiamo qua no vabbè dai fai chiamare un pochino ok no andiamo subito avanti non so neanche potenziarmi potenziali al prossimo checkpoint altrimenti perdiamo tempo vabbè allora spotenzia dopo dai si vaffanculo alla prossima parte mh alla prossima stazione dove sbloccheremo il video è bloccato stiamo toccando indietro eh sei serio? eh si quindi questa roba da ritardati ma qua basta sti ascensori mh minchia ma cazzo una ramba ti vedo e io no io non ho sempre con io e così sei riuscito a superare il mio blocco immagino che tu non sia uno di quegli imbecili dei dirappiesti del generale missione opzionale trova edward ma non credere di avercela fatta e anzi sappi che qui cos'è una cappa satanica è molto facile credimi la tua giornata sta per prendere una brutta maia non ho fatto far niente qui ma quanti cazzo sono ma che cazzo ne so non mi chiedi sono più loro che gli abitanti della terra escono dalle fuzzute parecchi sono stati portati quassù per essere conservati al sicuro tu vorresti vicarmi un proiettile in testa ma io ho un esercito che te lo impedirà odio che cazzo è al plasma la bomba al plasma questa? si boh io direi che saliamo le scale andiamo a vedere sopra prima eh saliamo le scale centro di comunicazione dobbiamo andar di sopra era un metodo per fare uscire ah e si lei ti si è rotto il cazzo delle scale? fai il giro simpatici qua c'è qualcosa di interessante di utile tazzo cos'è questa bomba qui? ops what the fuck perchè c'è una bomba lì su? ecco perché what the fuck grazie c'è eh eh c'è erano dentro da te che cazzo rito ecco ti e adesso divertiamoci un po' ma perchè devi essere così merda proprio eeeh cosa ha detto un'azione? what the fuck che sta succedendo? allarme contaminazione rilevata blocco di quarantena oh shit dietro di te e questo? dove cazzo esce? rilevo un blocco di quarantena ma tutto bene che cazzo è? non lo so ma c'è un nemico da parte so che sei un po' violento però cazzo ma si disattiva sto minchia d'allarme ripeto dov'è il cazzo di sblocco dell'ALLARME ecco l'ho trovato ho trovato però devi coprirmi ok se pronto aspetta che porca puttana sto acido di merda ok lo disattivo io aia coprimi l'ho fatto? ah no ecco sto facendo ma non è stato giro per niente praticamente stavamo qui attanto si dettagli per questa cosa ok fatto contaminazione rilevata blocco di quarantena attiva segnalare un cavoto a un superiore e non c'è un'altra cosa eeeh ci sono dei nemici da questa parte apri quella merda di porta perchè vieni di qua se c'è la porta guarda guarda WTF? edwards ha approntato una specie di trappola elettrica tra roba di fortuna trasmettitore a corto raggio a corto raggio la centralina deve servire spara guarda WTF ancora? no aspetta 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 che vieni da aiuto di noi oh cazzo è questo? si ma seriamente è questo? dove cazzo è arrivato? allora come disattiviamo sto cazzo di campo energetico? quello è un idiota ora sto pensando no eccolo qua eccolo qua eccolo qua però io non riesco a sparare alzalo vai tira su no ce l'hai tu ok qua c'è un altro però aspetta appogliamo la roba eccolo qua l'ha alzato buono qua c'erano degli armadietti ma perchè c'erano ci deve essere gente così scronza di metterti e cioè stai morendo bene ti compio con la vita perchè sennò qua c'è un montacarichi qua c'erano circuito qua c'erano le tue bellissime bombe beala Tesla ok c'erano giù c'erano giù tanta gente a a a a mi hai impinzato mi hai impinzato putto figlio di puttana ok cosa c'è? C'è una cazzo del cazzo Ok andiamo di qua, andiamo di la Cazzo è sto coglioni Oddio CHE CAZZO SEI TU Quanti non ti coglioni esistono Se inizia con calma Che cos'è? WTF Non andare Io non c'entro Neanche se mi pacco Oh siamo arrivati al terminale Possiamo interrompere la parte Ah ma siamo arrivati Il controllo ambientale non è lo stesso Aspetta ci mi invio le coordinate Robote vi cerchi? A dove? È tornato anche il robottino Il mio robottino ha portato mille risorse Anche il mio? Vediamo? Sì Buono Bene ragazzi Direi che possiamo interrompere qui la parte Spero che vi siete divertiti Noi un po' meno Perchè ci stanno abbastanza Rompendo i coglioni si stronzi Sì Abbastanza Quindi Quindi Aspetta che Ok 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 Quindi Noi aspettate un'altra cosa che riesco di fare Oh posso creare il fucile Buono E Insomma Fustiglia tutto Ve lo dico io Stanto lui intanto sta chiedendo di montare tutto Sì Sto montando armi 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 Aggiungiamo qualcosa a questo Bellissimo fucile Ok Ok mettiamoci Questo Mettiamoci Questo E mettiamoci Questo Ok ragazzi Così abbiamo creato la nuova arma Finalmente abbiamo Qualcosa da Usare Oltre la pistolina del Cazius Io Una mega quantità di Medikit Guardate che bello Questo fucile Guardate che bello Guardate che bello Quella lama Come quella che ha Nostro compagno E noi ci salutiamo con Io ci vediamo nel prossimo video Bella ragazzi Ciao 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 ciao